Anche in appello è arrivata la conferma dell'ergassolo per Buran Kaplani, l'imprenditore di 50 anni albanese che il 17 gennaio del 2013, fuori ad un supermercato a Bazzano, freddò a colpi di pistola l'ex moglie Orietta Bosci e il nuovo compagno della donna, Sheptim Ana. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato sostanzialmente la pena per l'uomo, la cui vicenda provocò sgomento in città, visto che l'imprenditore, titolare a Bazzano di un'azienda di Marmi, era molto conosciuto all'Aquila. Entro il 30 settembre arriveranno anche le motivazioni di questa sentenza. I giudici della Corte d'Appello dell'Aquila hanno disposto anche un risarcimento di 900 mila euro a favore dei due figli ancora minorenni. Gli avvocati di Kaplani, Colella e Cascere hanno già annunciato il ricorso in Cassazione, ma si aspettano ovviamente le motivazioni. Ci sono molti aspetti da chiarire, dicono. Secondo gli inquirenti, Kaplani aveva già premeditato invece l'omicidio della moglie. Lui, infatti, secondo le testimonianze raccolte anche in sede processuale, non si era mai rassegnato alla fine di quella storia. Lei voleva sposare il nuovo compagno, un fatto che fece scalpore perché a quell'ora il supermercato era pieno di gente. La donna morì sul colpo, il nuovo compagno tentò la disperata fuga, raggiunto poi da un colpo di pistola alla nuca. Ricorderete pure che Kaplani si allontanò a piedi dal luogo del delitto, ma che non oppose resistenza ai carabinieri al momento dell'arresto. La sentenza di primo grado era arrivata esattamente un anno fa. Da allora, dal momento dell'arresto, Kaplani è sempre stato in carcere. Sono state infatti sempre respinte le richieste di domiciliari.